Credo che intromettersi in una storia d'amore altrui sia profondamente sbagliato, non intromettetevi mai tra due fidanzati o tra marito e moglie, come si dice tra moglie e marito non bisogna mettere il dito, vabbè sembrava un doppio senso, no cioè in nessun senso non metteteci il dito insomma, mio consiglio spassionato.